Ben ritrovati Oggi devo andare a sbrigare dei lavori In biblioteca, una biblioteca qua della città Avrei voluto andare al mare Ma ci andrò probabilmente Oggi pomeriggio Per iniziare la giornata però vado a fare colazione Vietato o frio Un buon cappuccino con una brioche calda Ideale per iniziare la giornata Siamo arrivati nella biblioteca Quanto pesa questa borsa Buongiorno Mi è venuto mal di collo Come si può ben vedere dalle copertine dei libri Dallo stato dei libri in sé Questa biblioteca offre un grande patrimonio storico e culturale Ci sono libri risalenti al 1880-1930 Opere storiche interessanti Addirittura con il timbro del re Come questo libro qua Fantastico E da notare la copertina di questo libro Sembra di pelle Dei manoscritti che avranno come minimo 100 anni C'è addirittura la Divina Commedia Una delle prime stampe stampata a Firenze Risalente al 1905 E' addirittura la Divina Commedia In mezzo del cammino di nostra vita E' quasi un peccato che queste opere di così grande valore Vengano lasciate così sugli scaffali Dovrebbero essere messe in delle teche apposta per preservarsi col tempo Ma vabbè Non avviene così Peccato Guardando attentamente tra gli scaffali si trovano anche opere Antecedenti il 1880 Addirittura questa qua risale al 1828 Le pagine sono ormai consumate dal tempo Questa è forse una delle opere più antiche della biblioteca È rivestita di pelle di pecora Così sembra Quest'opera dovrebbe essere datata attorno al 1500 Dopo la mattinata in biblioteca Vado finalmente al mare Sono quasi le 4 E' un po' tardi per andare al mare però Mi sono riposato, ho mangiato Con calma siamo in vacanza Let's go Con calma siamo in vacanza Oggi il mare è un po' mosso Non è neanche tanto pulito A dire il vero Però si sta bene C'è giusto un po' di vento Ci pira anche da l'ora Il sole sta quasi per andare via Ho notato che finalmente stanno montando la rete Per giocare a pallavolo Che era stata tolta Quindi fra qualche giorno Si dovrebbe avere la rete da pallavolo per giocare C'è giusto un po' di vento bene per oggi basta mare stasera siamo scesi sul lungomare giusto per fare due passi in questo lido non c'è tanta musica c'era un piccolo intrattenimento per i più piccoli all'inizio e in qualche lido sottostante mettono della musica tanto per ballare e bere qualche drink niente di particolare però nessun evento particolare nessun concerto non c'è nessun concerto non c'è nessun concerto bene la serata termina qua è l'ora di andare a casa sono anche stasera stanco per oggi il vlog finisce qua ci vediamo ancora qui domani grazie a tutti Grazie a tutti.